Ottavio De Martinis, sindaco uscente di Montesilvano, si dice pronto a continuare l'esperienza di governo avviata cinque anni fa. L'annuncio ufficiale della sua ricandidatura è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sala consigliare di Palazzo di Città. A sostenere De Martinis c'è una coalizione composta da liste civiche e partiti di centrodestra, a eccezione della Lega, che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler candidare Anthony Alliano. Sicuramente con la passione di sempre, con l'amore incondizionato che ho per Montesilvano e soprattutto con il rapporto forte che mi lega non soltanto alla città ma anche ai cittadini, tanto da essere appellato da tutti quale sindaco del popolo. Lo spirito è questo, è sicuramente uno spirito positivo, dettato dal fatto che tanto è stato fatto in questi anni e c'è necessità di continuare un percorso che mi auguro sia stato apprezzato e che quindi si possa continuare a portare avanti insieme. Quali sono le liste che in questo momento sostengono la sua ricandidatura? Fratelli d'Italia, Forza Italia, la lista civica Montesilvano Sceglie che è la lista che ho personalmente composto, la lista del sindaco e noi moderati. Con la Lega lo strappo è ricucito? Io ribadisco quanto detto in questi giorni e soprattutto auspico a un confronto che ancora c'è stato che possa in qualche modo manifestarmi pubblicamente quali sono state le motivazioni per le quali la candidatura non è stata indirizzata verso la mia persona ma soprattutto per capire se ci sono dei margini per arrivare tutti insieme al voto. Alle elezioni dell'8 e del 9 giugno De Martinis dovrà vedersela con Fabrizio D'Addazio, candidato sindaco sostenuto da una coalizione di partiti di centro-sinistra con Movimento 5 Stelle e liste civiche che ieri ha inaugurato il tour del suo comitato elettorale mobile muovendosi tra i quartieri di Montesilvano per incontrare i residenti e ascoltare i cittadini. Tra gli ospiti del comitato mobile di D'Addazio anche Lucia Annunziata, candidata del Partito Democratico alle elezioni europee e il consigliere regionale Luciano D'Amico. Oggi è la seconda pedina di questa campagna elettorale, stiamo presentando questo mezzo che girerà su tutto il territorio di Montesilvano, dal mare al colle, dal nord a sud della città, passando attraverso quelle zone poco attenzionate. Ma i problemi a nostro avviso, io parlo a nostro avviso perché parlo al plurale, un po' per tutta la coalizione perché noi stiamo lavorando su un programma insieme a tutti i partiti del centro-sinistra. I problemi sono tanti, sono su questo territorio, a partire dal mare, come dicevo prima al colle e anche nelle zone un po' all'interno del territorio. C'è da lavorare tanto sulla viabilità, ridare un assetto urbano a questa città, lavorare tanto sul verde, sulla viabilità fondamentale, diciamo sull'arteria principale della viabilità per il collegamento tra Montesilvano e Pescara e soprattutto lavorare sul futuro di questa città. Noi dobbiamo stare con la testa giù, però guardando un po' al futuro, guardando al futuro perché noi abbiamo da affrontare in questo mandato, che è la nuova Pescara, questa fusione tra questi tre comuni e noi faremo sì che Montesilvano non sia da spettatore ma sia protagonista di questa fusione.